Giampaolo Vietri è candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia, candidato presidente Raffaele Fitto. Ecco Vietri, immagini di avere dinanzi a sé i suoi potenziali elettori, quale il suo appello al voto? Ma io intanto vorrei dire agli elettori che io non sono una persona prestata alla politica. La politica è stata da sempre la mia passione. Io entro a 14 anni in una sede di partito, da allora non ho mai interrotto nel coltivare questa mia passione. Non sono uno catapultato direttamente nelle istituzioni, ma comunque sono stato tre volte eletto consigliere al Comune di Taranto e oggi sono anche consigliere della provincia di Taranto. Io sono un figlio di questa terra, io vivo qui, vivo qui con la mia famiglia, con i miei bambini e conosco quelli che sono i problemi di questa terra. Li vivo tutti i giorni sulla mia pelle, però so anche che Taranto ha mille energie positive e io andando in regione voglio dare voce alle energie positive, a quanto di straordinario c'è in questo territorio. Sono un uomo libero, non ho padroni, metto a disposizione il mio impegno, la mia competenza e la mia onestà. Se volete mettete una croce sul simbolo di Fratelli d'Italia e scrivete Vietri.